blu, guarda come l'acquagiacca, era blu così, una Fiat, una Punto ma non tipo a Deviso, è normale normale e loro erano in Borghese niente, noi due eravamo qua più o meno ci accorgiamo di questa macchina che rallenta davanti a me allora andiamo là andiamo là e a un certo punto chiedono a te Nicoletta, e lei gli dice no Nicoletta sono io, Stagnaro, sono io basta, accelere, va via, fine del traduzione perché lei è il proprietario o suo padre? mio padre finisce lì basta, noi due torniamo qui per dare la notizia di questo incontro dopo un attimo perché loro, trick, hanno rifatto il giro ci giriamo e li rivediamo là allora gli stessi, due la stessa macchina riandiamo là e mi dice mi dice, sempre lo stesso che era quello che guidava mi dice, io so il suo nome perché il suo nome, cioè Stagnaro Nicoletta perché me l'ha dato il geometra, me l'ha dato Bagnasco di Gavi io ho detto il geometra Bagnasco sì perché so che l'ha invitata a andare giù per firmare perché lei sta aspettando quelli dei coach e io ho detto sì può andare anche adesso ma io non ci vado brava così ho declinato l'invito prima e ancora adesso fine delle trasmissioni quindi Bagnasco l'ha chiamato prima a lei? aveva telefonato sabato che infatti ho mandato la mail sabato io sono stata contattata telefonicamente dal geometra Bagnasco in maniera informale cioè non ha chiamato col telefono del comune di Gavi ha chiamato col suo telefono cellulare e mi ha chiamato sul mio cellulare anche aspetta brava gente guarda occhio eh brava gente eccolo qua e poi lo impagno la macchina è questa si è grazie non c'entra niente non c'entra niente